Exoratics, oggi ho scelto per voi l'auto per eccellenza per la città e per i giovani, è sicuramente una delle auto più amate di sempre ed è proprio lei. Ford Fiesta, 1.0 di cilindrata, 75 cavalli, la vediamo nell'allestimento titanium in questo bellissimo blazer blu. È un'auto che ha percorso poco meno di 50.000 km, alimentazione diesel. In dotazione abbiamo anche il secondo treno di gomme e non mancano però i dettagli. Così un po' di carattere ma anche un po' eleganti, come la striscia inferiore della finestratura. Il colore è bellissimo, abbiamo i cerchi in lega e diciamo che sicuramente grazie alle dimensioni è l'auto perfetta per chi possa essere parcheggiata ovunque. Noi adesso entriamo subito per scoprire gli interni. In questo caso abbiamo già i sedili abbattuti così per comodità, sono frazionabili 60-40 e abbiamo anche gli attacchi Isofix a entrambe le sedute esterne e posteriori. Mentre la plancia, così potete dare un'occhiata anche alla spaziosità. Mi devo silenziare perché non sono microfonata, quindi non mi sentireste. Allora, che dire, abbiamo le sedute che sono in tessuto. Sono molto comode, molto morbide, ergonomiche, sagomate, con una doppia texture. Abbiamo il cambio che è manuale a 5 rapporti e manuale anche il freno di stazionamento. Non mancano i dettagli come i led d'atmosfera, diciamo che possiamo vedere qui nel portabibite, nel tunnel centrale. Abbiamo anche il bracciolo con vano portoggetti ed è anche estendibile. Abbiamo anche qui tutti i tasti per la gestione dell'infotainment. Abbiamo il display riparato dai raggi solari e lo sterzo a tre razze con numerosi tasti, appunto per la gestione, ad esempio, delle chiamate vocali, piuttosto che dei comandi vocali, del volume. Mentre sulla sinistra troviamo ovviamente la gestione del gruppo ottico anteriore. Adesso scendiamo velocissimi e facciamo un piccolo recap. Mi metto da questa parte, stiamo parlando di Ford Fiesta. Mille di cilindrata, 75 cavalli, allestimento titanium. Un'auto usata che ha percorso poco meno di 50.000 chilometri. Non vi resta che scoprirla correndo subitissimo sul nostro sito rattix.com. Exo?